Presidente, quali sono le sfide da raccogliere oggi per migliorare ulteriormente la misurazione del benessere eco e sostenibile? Le sfide sono numerose, diciamo che vanno raccolte anche da soggetti diversi, per quello che riguarda l'Istat la sfida principale è quella di mettere a disposizione misure sempre più accurate delle diverse dimensioni del benessere, dimensioni che sono numerose, sono molte e spesso hanno anche qualche rapporto conflittuale tra di loro, quindi una sfida oltre a quella della misurazione è anche quella di avere un'idea più precisa di quanto conflitto c'è tra le diverse dimensioni, nel senso che cercare di conseguire un risultato più elevato in una dimensione può portare ad avere un risultato peggiore in un'altra e quindi bisogna avere consapevolezza che questi conflitti esistono, misurarli, dare un'idea di quali possono essere anche le misure per alleviarli, cioè per rendere più facile che tra le diverse dimensioni siano rapporti più complementari piuttosto che più conflittuali. E poi ci sono le sfide che riguardano la sintesi di tutti questi indicatori, come presentarli, in che modo utilizzarli in maniera agile e questo è un compito che spetta più ai politici, diciamo, quando devono definire le iniziative da prendere, però l'Istat può dare delle indicazioni che riguardano per esempio l'importanza che le diverse dimensioni hanno per le persone, in modo che i politici nel decidere come muoversi possano tenere conto di queste preferenze dei cittadini e qualche informazione l'Istat la fornisce già adesso. Bene.